Sabato 21 e domenica 22 febbraio, porte aperte da Goffi Auto, a Marotta, via Litorania. Bentrovati, buon inizio di settimana, Senigallia Web TV lunedì 22 di febbraio. Nel corso di un controllo gli agenti di polizia hanno fermato un veicolo con a bordo 4 persone, tre giovani provenienti da Falconara e una donna di circa 35 anni di origini rom. Tutti sono risultati avere precedenti per reati contro il patrimonio e non hanno saputo giustificare la loro presenza sul territorio di Senigallia. Pertanto, dopo il controllo, gli agenti hanno accertato che lasciassero il territorio del comune. Ripulito, l'appartamento di un imprenditore sabato sera in Via Lamarca, Senigallia, i ladri hanno asportato soldi e gioielli per svariate migliaia di euro. I proprietari erano usciti per andare a cenna fuori. Una volta rientrati, prima della mezzanotte, si sono accorti di aver ricevuto la visita dei ladri. Il bottino ancora non è stato quantificato, ma all'appello mancano gioielli e tenaro. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Senigallia hanno arrestato un senigalliese di 32 anni per spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di due flaconi da 30 millilitri, ciascuno di metadone, circa 6 grammi di hashish. Il tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto e ha condannato il senigalliese alla pena di 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. Nelle Marche è nato un progetto di agricoltura sociale, la nuova opzione che servirà a favorire lo sviluppo del comparto rurale, creando forme di occupazione e aiutando così anche le fasce più deboli. Il 26 febbraio a Corinaldo si terrà un convegno conclusivo al quale prenderanno parte le coop sociali che animano questo progetto. Il progetto è legato a questo connubio tra la cooperazione agricola e la cooperazione sociale. Sta proprio nel DNA delle centrali cooperative, della Lega delle Cooperative, l'aspetto solidaristico e sociale del recupero di molte persone, anche se siano esse svantaggiate o con delle difficoltà, attraverso l'avvicinamento al mondo dell'agricoltura. Si apre anche all'aspetto della socialità. Questi due mondi, il mondo dell'agricoltura, della cooperazione agricola insieme a quello sociale, si mettono assieme per dare una risposta da una parte di carattere imprenditoriale, quindi formando anche l'opportunità di lavoro e di occupazione per le persone con delle difficoltà e dall'altra proprio dare una risposta di carattere totale. Il convegno di Corinaldo del giorno 26 sarà il modo per fare il punto della situazione e rilanciare una progettualità nell'agricoltura sociale, cercando anche di chiedere all'istituzione regionale, all'assessorato all'agricoltura, che la legge regionale 7 che sostiene questi progetti possa essere rifinanziata e ci possono essere delle risorse a sostegno di queste azioni e di questi progetti. Cambiamo pagina. Una cerimonia sobria e allegra fatto da contorno all'inaugurazione del progetto Aspasso, la speciale bicicletta proposta da Protec Ambiente che permetterà alle persone con disabilità motoria di fruire di un mezzo di trasporto agile, veloce e senza l'emissione di agenti inquinanti. Aspasso gode del patrocino del Comune di Senigallia. La bicicletta, unica in tutta Italia, può essere utilizzata per qualsiasi spostamento in città, nelle sue vicinanze o nel tragitto tra gli alberghi e gli stabilimenti balneari ed è stata donata dalla Protec Ambiente alla Casa della Gioventù. Massimo Max Fanelli durante la giornata mondiale per la giustizia svoltasi a Morlupo, Roma, presso la Fondazione Antoniana, organizzata dall'Istituto Europeo Pegaso Onlus in collaborazione con le Nazioni Unite, ricevuto dagli organismi ONU direttamente da New York la nomina a membro onorario del Giubileo dell'Educazione e dell'Accademia Impact delle Nazioni Unite. Si è tenuto sabato 20 febbraio all'ex ostello di Via Marchetti a Senigallia il secondo festival dei lettori intitolato Leggiamo. Un incontro partecipato, aperto a tutti e che ora ci facciamo raccontare da Sonia Magni, membro del Circolo dei Lettori di Senigallia. Il nostro circolo è un circolo che è nato nell'ottobre 2012 e ogni mese leggiamo un libro e ne parliamo. L'anno scorso abbiamo provato a organizzare per la prima volta il primo festival dei lettori a Senigallia, è andato molto bene, abbiamo coinvolto associazioni del territorio e singoli lettori. Anche quest'anno abbiamo riproposto questa iniziativa, il tema è libero, ogni associazione leggerà testi, libri che preferisce, di argomenti che magari trattano dell'associazione. Perché è bello riunirsi in circolo, leggere queste pagine, questi brani insieme? Qual è l'aspetto che ti coinvolge di più? Coinvolge perché è come vedere un film al cinema in tanti, le emozioni che si trasmettono non sono le stesse del lettore che legge da solo la pagina del libro. Poi è un modo anche per scambiarsi delle letture o un'idea di lettura che magari la persona da sé non gli verrebbe in mente di leggere. Da martedì 23 e per tre martedì consecutivi gli studenti dell'Istituto Panzini di Senigallia si recaranno alla mensa della solidarietà gestita dalla Caritas per cucinare e servire a tavola agli ospiti assistiti al centro palazzolo in piazza della Vittoria, che dopo i danni dell'alluvione ha riaperto a pieno ritmo già da settembre. Saranno in modo particolare due classi, terze, una del settore cucina e una della sala bar, insieme ai rispettivi docenti a partecipare ad un progetto di solidarietà concreta, solidarietà e sport, finanziato dal MIUR. Adesso lo sport pallavolo continua con sicurezza la marcia delle squadre dell'US pallavolo Senigallia nella seconda fase dei campionati di Serie C e D. Nel girone salvezza della Serie C maschili la Max Control ha trionfato per 0-3 sul campo del Monte Cassiano. Nel girone promozione della Serie D femminile, importantissimo successo per 3-1 della Punto Più sul Loreto. La pallacanestro, un'ottima poderosa, non ha lasciato scampo alla pallacanestro Senigallia imponendosi per 89-57. Ancora lo sport, questa volta il calcio, ottima vittoria della Vigo Senigallia che al Bianchelli ha la meglio su Fabriano Cerreto. Seconda forza in campionato per una rete a zero. Il gol partita arriva al sedicesimo del primo tempo con Brunori. Terminiamo con le condizioni del tempo di martedì 23 febbraio sulle Marche. Cielo alla poca copertura mattutina seguirà un incremento ed un'espansione della stessa da nord-ovest nelle ore centrali. Precipitazioni di debole intensità possibili probabilmente nella tarda mattinata, i venti deboli dai quadranti occidentali, le temperature senza grandi variazioni. Previsioni elaborate da Assam. Grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento come sapete per l'edizione di domani, vi aspetto. Grazie. Grazie.